Ilve vuole trasmettere con il film Le Mura di Bergamo una traccia e un messaggio per la generazione future. Per capire il senso di quello che stava succedendo hanno aperto quando è un momento anche più terribile, quindi le immagini si sono viste. È una storia, è una storia di una città, è una storia di un gruppo di persone e ora siamo qui per partirela con tutti i ragazzi. È stato molto importante per me guardare il tuo film Stefano e grazie a tutti noi. È importante che il film si riuscirà in ogni posto solo per ricordare a tutti cosa è fatto. Io prendo molta inspirazione da questo film, grazie. Grazie. Grazie.